Ecco dove l'ho vista, lei viene alla mia stessa mutua, è nel mio gruppo di analisi Sì, è vero, ma non vado più, serve a poco Invece di dare delle risposte, quelli fanno delle domande L'ultima volta lo psicologo mi ha chiesto se per caso mio marito è impotente Ma chi se lo ricorda? Invece lo psicologo mi ha detto che secondo lui il mio fidanzato è bisessuale Ossia gli possono piacere sia le donne che me Dopo che me l'ha detto perché non cadessi in depressione Mi ha consigliato di avvicinarmi alla new age Allora io mi sono iscritta a un corso di tai chi, reiki, rebirthing, dance energy, free climbing, birdwatch Mi sono iscritta anche a un corso di inglese per sapere a che cavolo di corsi mi stavo iscrivendo Alla fine facevo lunedì floriterapia, martedì biodanza, mercoledì yoga, giovedì gnocchi, venerdì kebana, sabato e chea Sa che era il corso più affollato? Quanti malati lì Ci sono stata anch'io, va a star bene Io invece con una tecnica new age sono entrata in una vita precedente Solo che ero la cieca di Sorrento E così non ho visto un cazzo Oddio per non vedere quel coso lì non bisogna essere per forza cieche Basta essere brutte A volte noi donne per gli uomini soffriamo pure Soprattutto quando ci lasciano E invece dovremmo soffrire quando? Quando li incontriamo Però un'opportunità è giusto darla a tutti Sì 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 Mi sono convinta È giusto Darla a tutti